Il prossimo Consiglio Comunale, se Salvatore e tutti sono d'accordo, andiamo tutti a Cafarsetti, perché là è il luogo della città, quella è la casa dei cittadini che ci è stata chiusa in tutti questi anni. La mozione delle opposizioni sulla sanità pubblica è stata depositata e l'obiettivo è portarla in discussione in Consiglio Comunale alla presenza dei cittadini. Come annunciato nella manifestazione promossa dal Movimento per la Difesa della Sanità Pubblica Veneziana e dall'Associazione Amici del Giustinian e preceduta da una petizione che ha raccolto 9.000 firme, il Movimento per salvare il Giustinian si sposta a Cafarsetti. Il silenzio è assordante, continuiamo a chiedere commissioni sul tema e non ci vengono date, non ci vengono offerte occasioni di dialogo e quindi l'unica soluzione è quella di chiamare a raccolta i cittadini. L'appuntamento è per il pomeriggio di giovedì 25. Per evitare sovrapposizioni, il gruppo Insieme, che raccoglie 39 associazioni della Voga e della Vela con migliaia di iscritti tra Venezia e Mestre, ha quindi deciso di cambiare l'orario dell'Assemblea pubblica contro il moto ondoso alla pescheria di Rialto. Abbiamo deciso di posticipare alle 18.30 l'appuntamento di giovedì 25 maggio in pescheria per l'Assemblea pubblica sul tema del moto ondoso. Abbiamo pensato che così avremmo permesso a più persone di poter partecipare a tutti e due gli eventi. Secondo Giovanni Andrea Martini, di tutta la città insieme, l'amministrazione comunale dimostra più interesse per le aperture di nuovi centri di medicina privati che per la difesa dei servizi sociosanitari pubblici e all'amministrazione comunale si chiede un deciso cambio di passo. Premere sull'Ulss perché appunto non ci sia questo depotenziamento del Giustinian e in genere tutti i servizi sanitari che in città sono veramente difficili, carenti, dai medici di base ai servizi analisi alle code chilometriche. Insomma tutto quello che riguarda la sanità pubblica è in forte crisi e in forte difficoltà.